Tutto pronto a Cosenza, alla confluenza dei fiumi Crati e Busento, dove verrà inaugurata formalmente domani la statua di Alarico dell'artista Paolo Grassino. La scultura è già posizionata nel luogo in cui, secondo gli storici, fu sepolto il re dei Gotti con il suo ingente tesoro. L'opera è stata realizzata utilizzando un finanziamento messo a disposizione dalla Fondazione Cavica, Lesserà e il caso di Divlo, il cavallo di battaglia del sindaco occhiuto per promuovere la candidatura del capologo Bruzio a Capitale della Cultura Italiana 2018. Sarà uno dei tasselli fondamentali per completare quel percorso di valorizzazione del capologo Bruzio e del suo centro storico promosso dall'amministrazione comunale per rilanciarne la vocazione turistica. La superficie della scultura è rivestita da una pelle di linee in rilievo che rende omogenei i tre elementi cardini dell'opera. Il cavallo, il re e la struttura che li sorregge sono legati insieme dallo stesso derma, da una buccia di onde che ridisegnano le forme e coprono i dettagli della figurazione. Alla cerimonia, oltre all'autore e dal primo cittadino, parteciperanno il sottosegretario ai beni e attività culturali Dovina Bianchi, il prefetto Gianfranco Tomao, il presidente della Fondazione Cavica al Mario Bozzo e Mario Pagano, soprintendente ai beni culturali per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Salvatore Bruno per la CNews24. Salvatore Bruno per la CNews24.